Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Pace e giustizia. Oggi ci auguriamo buon anno. Non sappiamo che cosa ci riserverà, ma di sicuro sarà migliore se costruiamo una rete ospitale e fraterna, se ci impegniamo nel sociale, se lottiamo per i diritti umani. Oggi noi cattolici celebriamo la solennità di Maria Madre di Dio, il titolo più antico attribuito alla Madonna. Oggi celebriamo la giornata mondiale della pace. Lo slogan è dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, strumenti per edificare una pace duratura. Ne parliamo con Tonino, dirigente scolastico di tutte le scuole di Larino, politicamente e socialmente impegnato, diversamente credente. Allora, innanzitutto grazie Don Antonio, grazie di questa opportunità, sia come amministratore locale, sia come dirigente scolastico. I temi che hai trattato in questi pochi secondi sono enormi. Papa Francesco sta provando in tutti i modi di dare un senso di umanità a questa nostra collettività mondiale. Però purtroppo, dico purtroppo, le guerre aumentano, le risorse per le spese militari aumentano anche dopo la fine della guerra fredda e le disuguaglianze aumentano. Questa pandemia è la dimostrazione vivente. Noi abbiamo le varianti di questo virus, che è un virus che, come tante migliaia di virus che circolano tra gli animali, si stanno moltiplicando e cambiando geneticamente in paesi, in nazioni, popolate da miliardi di persone, dove la percentuale dei vaccini è modesta perché non arrivano, perché le multinazionali stanno pensando più ai profitti. Voglio solo ricordare che probabilmente la Pfizer quest'anno avrà un utile di 81 miliardi, 81 miliardi, mentre la nostra nazione sta approvando stamattina una manovra economica da 30 miliardi. Queste sono le disuguaglianze intolleranti. Sul versante istruzione, fino a quando l'istruzione sarà un costo e non una risorsa, un investimento, possono cambiare tutti i ministri di questo mondo. Anche questo ministro disponibile, aperto, non riusciremo mai a fare quel salto di quantità. Questo è il mio modesto pensiero. Ecco, raccogliamo la sfida, diventare artigiani di pace per costruire un mondo fraterno. Grazie.